Buongiorno, sono Francesco Accomando, responsabile artistico dei progetti didattici di teatro Club Udine. Lascio la parola per un saluto al presidente di Teatro Club, Alessandra Pergolesi. Buongiorno, siamo giunti alla conclusione del ciclo di conferenze del progetto Ragazzi in Piazza. Quella di oggi tratta del costume femminile al tempo della Grande Guerra, anche di quello funzionale alle molteplici occupazioni sociali delle donne dell'epoca, che si trovarono spesso a dover sostituire gli uomini chiamati alle armi. Desidero ringraziare tutti per la generosa partecipazione, nella speranza di una vostra altrettanto generosa adesione anche al secondo modulo del progetto. A presto e come sempre, buon ascolto. Grazie Alessandra. Ragazzi in Piazza, questo è il nome di un progetto basato su una nuova sinergia tra Teatro Club Udine e le scuole superiori di secondo grado di Udine provincia. Quattro conferenze a supporto dell'attività svolta dagli insegnanti con i propri studenti in ambito curricolare. Spunti e stimoli di memoria sulla Grande Guerra, e in particolare il primo dopoguerra, per comprendere da dove veniamo, chi siamo e decidere dove andiamo. Dopo le conferenze seguiranno attività di laboratorio, di ricerca e infine una giornata conclusiva nella quale gli studenti saranno protagonisti con le loro idee, le loro riflessioni, le loro voci, la loro creatività. Il progetto è realizzato con il sostegno della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione con il Circolo Fotografico Friulano, l'Associazione On Art, la Biblioteca Civica Ioppi e Udine Rete Libri, le biblioteche scolastiche. Per questa quarta conferenza abbiamo con noi la dottoressa Raffaella Sgubin, direttore del Servizio Ricerca, Musei e Archivi Storici dell'ERPAC, ente regionale per il patrimonio culturale della regione Friuli Venezia Giulia. Titolo della conferenza, prima, durante e dopo la Grande Guerra, come cambia il costume femminile. Una comunicazione di servizio al termine dell'intervento della relatrice, ci sarà un momento per alcune domande da parte di insegnanti e studenti. Le domande dovranno essere scritte in chat e verranno rilanciate a voce da me alla relatrice. Potete scrivere le vostre domande già durante la conferenza. La parola alla dottoressa Raffaella Sgubin. Buongiorno, sono già stata presentata. Mi preme soltanto dire che tra le realtà museali di cui sono responsabile, ce ne sono due particolarmente rilevanti per l'appuntamento di oggi. Il Museo della Grande Guerra di Gorizia e il Museo della Moda e delle Arti Applicate, sempre di Gorizia. Oggi parliamo di un tema che li collega e che parla di una vera e propria rivoluzione. È una rivoluzione di costume rispetto alla quale c'è un prima, un durante e un dopo, da cui il titolo che è stato annunciato. La Grande Guerra porterà, come vediamo, alla nascita dell'abito moderno. Quindi sono cambiate le fogge da allora sicuramente, però proprio l'impostazione, la modernità trova il suo momento iniziale, proprio in questo momento traumatico che è la prima guerra mondiale. Ma adesso facciamo un passo indietro. Vediamo se riesco a mandare avanti queste slide. Allora, perché funzionava tutto prima? Faccio un doppio clic sulla slide. Doppio clic, ok. Allora, abbiamo detto, facciamo un passo indietro. Vediamo alle soglie, agli inizi proprio del Novecento, quali erano gli stili di vita e di abbigliamento. Innanzitutto la condizione femminile era diversificata naturalmente a seconda degli strati sociali, però aveva alcuni tratti comuni, come l'assoluta sottomissione all'autorità maschile, quella del padre per quelle non sposate o quella del marito per le donne coniugate e l'esclusione naturalmente da tutti i diritti politici. Quindi questo era qualche cosa di trasversale. Le donne comunque potevano lavorare, naturalmente per le donne di condizione modesta, anzi il lavoro era estremamente duro, o nelle fabbriche o nei campi, mentre per le donne della piccola e media borghesia erano consentite alcune occupazioni come quella della maestra o dell'impiegata e, insomma, possibilmente da abbandonare al momento del matrimonio. Ecco, in ogni caso per intraprendere un'attività professionale era indispensabile il consenso del marito. In quanto alle donne dell'alta società non era previsto che lavorassero, quindi la loro occupazione principale era la cura dei rapporti sociali, l'educazione dei figli, la gestione della casa. Ecco, quindi la moda degli inizi del secolo si rivolge principalmente alle donne dell'alta e media piccola borghesia. È poco pratica e si indirizza a un tipo di utenza che ha bisogno più di apparire che di fare. Anzi, insomma, secondo il pensiero corrente, rappresentato anche da un filosofo dell'epoca come Thorstein Bebelen, poiché, adesso cito, il lavoro produttivo è particolarmente disdicevole per una donna rispettabile, nella creazione di abiti femminili si dovrà porre una speciale attenzione affinché all'osservatore resti impresso il fatto che la donna che l'indossa non è e non può essere impegnata in lavori utili. Ecco, quindi, diciamo, questo è il buongiorno proprio, questa è la premessa. Quindi, diciamo, non ci stupisce vedere abiti come quelli presenti in questa slide che in qualche misura costringono e anche deformano il corpo femminile. Siamo in presenza della cosiddetta linea AS. La S è naturalmente data dalla curvatura innaturale della colonna vertebrale impressa da un particolare tipo di corsetti. quindi voi qui vedete molto chiaramente il busto femminile sbilanciato in avanti, la busto, diciamo, la vita spostata all'indietro e quindi, diciamo, una enfasi anche sulle curve posteriori del corpo, no? Ecco, questa S era qualche cosa di assolutamente poco salutare. La vita è compressa, come la vediamo, perché, appunto, c'era una sottostruttura che poi vedremo, che era il corsetto che serviva a modellare il corpo e un elemento non trascurabile è anche l'alto colletto steccato, che, insomma, sembra niente, ma questi colletti avevano delle stecche al loro interno e quindi che, insomma, sicuramente davano un portamento molto così aristocratico, molto elegante, però facevano anche la loro parte nel limitare le possibilità di movimento. Ecco, adesso andiamo avanti e vediamo, appunto, che cos'era questa sottostruttura, questo corsetto. era una specie di bustier, se vogliamo, che veniva chiuso davanti con dei ganci. Era caratterizzato da delle stecche o di metallo o di osso di balena che erano molto fitte e poi veniva regolato sul dorso mediante delle fettucce che potevano essere tirate e dovevano essere tirate parecchio. Ecco, c'è un'immagine che è rimasta nell'immaginario di molte persone legata a un film in realtà, quindi ovviamente non si riferisce, non è appunto una fonte contemporanea ai fatti di cui si parla, però c'è una scena del film Via col vento dove si vede la protagonista alla quale la cameriera pianta, insomma, letteralmente proprio un... stringe, diciamo, impietosamente il corsetto, ma, insomma, naturalmente questo era ritenuto proprio necessario per avere il vitino di Vespa che la moda anche del secolo precedente, quindi di tutto l'Ottocento e del Novecento fino alla Prima Guerra Mondiale richiedeva, ecco, quindi il vitino di Vespa si otteneva a prezzo di grandi sacrifici. Ecco, andiamo avanti, però, insomma, diciamo che c'era già a livello, ehm, a livello culturale e artistico, eh, dei movimenti che, ehm, così mettevano in discussione, eh, questo tipo di estetica e questo tipo di, ehm, insomma, questo tipo di, ehm, abbigliamento, eh, che doveva essere, diciamo, la manifestazione evidente dell'impossibilità di svolgere, ehm, occupazioni utili. E sono, eh, la cosiddetta mode reform che, eh, prende, eh, piede, eh, nei paesi, eh, di lingua tedesca e viene, eh, sposata, ad esempio, dalla secessione viennese. E questi che vedete sono abiti di, in, dei primi anni del novecento e vediamo, eh, la musa di Gustav Klimt, eh, Emily Fleuge, eh, indossare, appunto, degli abiti che sono assolutamente, eh, così liberi, non, non costrittivi, quindi non richiedevano l'uso del corsetto, ehm, però, diciamo, anche questi erano, avevano questi alti colletti steccati che, ehm, appunto, erano, eh, un elemento comunque molto, molto sensuale. Ecco, quindi, diciamo, una comodità, sì, ma fino a un certo punto. Eh, un altro, eh, importante creatore è stato Mariano Fortuni, eh, che, ehm, con, partendo da altri presupposti, quindi il richiamo, eh, al mondo dell'antichità classica, ecco, partendo da questi altri presupposti, ehm, creava degli abiti che non, eh, richiedevano, eh, l'utilizzo del corsetto. Però, insomma, stiamo parlando, nell'uno come nell'altro caso, di assolutamente di elite culturali. Ehm, a livello, eh, a livello pratico, la stragrande, eh, maggioranza delle donne aveva come aspirazione quella di, eh, portare degli abiti, eh, con il corsetto, con le vesti lunghe fino ai piedi, quindi questi abiti sotto, ehm, così molto strutturati che, ehm, da un lato impedivano grandemente il movimento, ma dall'altro anche, eh, davano delle sicurezze perché, eh, sagomavano il corpo, quindi il corpo non era naturale, ma, eh, certamente, eh, a prezzo di sacrifici raggiungeva sempre la silhouette di moda del momento, insomma, eh, eh, del genere costi quel che costi. Ecco, quindi, eh, adesso siamo, eh, negli anni dieci e vediamo che, eh, rispetto alla silhouette che vi ho mostrato prima, quindi quella della cosiddetta linea S, eh, ci sono già, eh, dei piccoli cambiamenti, quindi, eh, la silhouette si sta un po' raddrizzando e questo già, ehm, porta, eh, un beneficio, eh, alla salute della colonna vertebrale. Ecco, mh, vi ho citato prima, eh, tra, eh, insomma, quelli contrari al, al corsetto, vi ho citato delle elite culturali, però c'erano anche i medici che, eh, cercavano di, eh, fare sentire la loro voce, eh, mettendo in evidenza, eh, la, i problemi di salute, eh, che, eh, a lungo andare, eh, l'uso del corsetto, eh, insomma, poteva portare. Ecco, ehm, quindi, comunque, su questo fronte già qualche piccolo miglioramento negli anni dieci c'è, ehm, la linea si raddrizza, eh, diventa un po' più affusolata, cambiano, eh, anche i corsetti, eh, l'abito diventa molto stretto, eh, alla base. Ecco qui, eh, vediamo una cartolina, eh, ironica del 1911, eh, dove si dice, eh, insomma, che cos'è questa è la gonna con il limite di velocità, eh, perché effettivamente in questo periodo, eh, diciamo, se da un lato il corpo veniva, eh, così, leggermente liberato da un corsetto un po' meno costrittivo, eh, dall'altro, mh, visto che comunque bisognava dimostrare di non avere necessità di lavorare per ragioni di status, allora si stringe la gonna proprio all'estremità, in modo da, mh, consentire dei passetti piccoli, piccoli, piccoli. E, mh, vi cito, eh, una, una frase da una rivista satirica dell'epoca, eh, e dice, il guerrin meschino. Sarà, se ancora la moda stringe in fondo il vestito, una corsa nel sacco la loro corsa al marito. Ecco che quindi, diciamo, sì, c'è questa ironia, naturalmente, mh, verso, mh, così, le follie della moda, questo, insomma, un topos letterario, un po' così, di sempre, eh, ma naturalmente anche, però, insomma, fa anche capire qual era, alla fin fine, eh, l'ideale, l'aspirazione della donna del tempo, la corsa al marito. Ecco, quindi, diciamo, il fatto che la donna potesse essere indipendente, autonoma dal punto di vista lavorativo, proprio, non era contemplato. Ecco, quindi, mh, sono tutti elementi questi, eh, che noi dobbiamo tenere ben presenti, anche poi, eh, quando affronteremo le tematiche, eh, delle donne in guerra, perché, insomma, la rivoluzione culturale è, eh, assolutamente, eh, notevole. Ecco qui, eh, vediamo, eh, i corsetti di questo periodo degli anni dieci, quindi subito prima, eh, della prima guerra mondiale, eh, appunto, ci stiamo mano a mano avvicinando, eh, vedete, sono diventati leggermente più morbidi, sono, eh, però stringono molto i fianchi, eh, in questo caso, però, appunto, perlomeno non incurvano la schiena, è già qualcosa. Ecco qui, eh, mh, vediamo altri, mh, elementi di moda del periodo, ecco, quindi, mh, l'attenzione, eh, della moda del periodo è posta su dei cappelli molto ampi, la donna doveva sempre uscire di casa, eh, con il capo coperto, e, mh, i capelli di questo periodo sono particolarmente voluminosi, e, eh, non dobbiamo dimenticare anche altri, eh, accessori come l'ombrellino, eh, perché, eh, uno dei requisiti, eh, importantissimi, della moda di, eh, questo periodo, ma, insomma, della moda di secoli, per dire la verità, fino agli anni venti del novecento, quando la bronzatura viene sloganata, ecco, fino a prima, eh, la donna doveva essere, doveva avere la pelle assolutamente candida. E, eh, questo, eh, perché, ehm, la donna con la pelle scura era associata, eh, all'idea del lavoro all'esterno, quindi il lavoro nei campi, il lavoro, eh, non lo so, come venditrice in piazza, insomma, eh, cos'è di questo tipo qua. Un motivo per cui, ehm, anche le contadine che effettivamente lavoravano all'aperto, si difendevano come potevano, con fazzolettoni, insomma, eh, proprio per, eh, cercare di mantenere l'incarnato il più pallido possibile. Ecco, quindi, eh, come vedete, sempre, ehm, il, gli elementi estetici sono, eh, legati, eh, a quelli di rappresentazione sociale. Ecco, quindi, mh, allora, abiti, ehm, che, eh, devono manifestare l'impossibilità al lavoro, un incarnato che deve essere pallido e quindi, ehm, a sua volta, eh, anche, ehm, ehm, evidenziare il fatto che, eh, la donna non lavora, e, insomma, e, e via discorrendo. Ecco, sono parametri questi che dobbiamo sempre, eh, tenere presente. E, eh, però, appunto, eravamo arrivati al quattordici e, insomma, il quattordici è, ehm, l'anno fatidico, eh, dello scoppio, eh, del primo conflitto mondiale. E quindi, ehm, e, appunto, in un primo momento, ehm, alle donne cosa si chiede? E, eh, beh, insomma, si chiede, ehm, non si chiede un impegno attivo, ma, eh, si chiede perlomeno di, eh, incoraggiare, eh, gli uomini di casa, appunto, eh, figli, mariti, eccetera, a partire, insomma, a partire per la guerra, quindi, ehm, insomma, con, insomma, queste motivazioni che vedete. Però, ehm, siamo, appunto, ancora agli esordi e, mh, ancora, eh, nessuno può immaginare quello che la guerra veramente, eh, comporterà. E, quindi, eh, tutti, insomma, pensano, tutto sommato, a una guerra, eh, veloce, una guerra che durerà poco, ehm, e che, insomma, in questo, eh, insomma, tutti i paesi belligeranti, eh, insomma, condividono questa visione ideale, appunto, di, eh, una guerra lampo, che, insomma, cesserà presto, che porterà grandi benefici, eh, dalla quale gli uomini torneranno presto a casa, eh, carichi di gloria. Ecco, eh, questi sogni di gloria, eh, si infrangono, eh, molto presto, eh, di fronte, eh, alla, eh, carneficina, e a questa guerra come, eh, che diventa come una fornace, che inghiotte vite umane, che inghiotte risorse, eh, eh, appunto, sia, eh, materiale, che, insomma, veramente risorse, che economiche risorse, eh, di tutti i tipi. E, quindi, eh, ben presto, eh, si capisce che senza un impegno attivo anche delle donne, eh, il fronte interno, eh, dei vari paesi collassa. Mh, ecco, faccio una premessa, eh, anche nelle, eh, nelle slide che vedrete, eh, troverete immagini, eh, sono, che sono austriache, tedesche, italiane, inglesi, americane, ecco, perché, eh, proprio il fenomeno di cui parliamo, eh, quello, appunto, del coinvolgimento delle donne nella grande guerra, eh, della trasformazione del loro, eh, diciamo, costume, sia in termini di, eh, modo di comportamento, che in termini, eh, di, eh, di, eh, abito, ecco, quindi questo è tutto un fenomeno, eh, trasversale, eh, internazionale. Bene, allora, eh, si, eh, capisce che le donne devono intervenire, eh, in ambito lavorativo. E, eh, vedremo poi, insomma, tutto un overo di occupazioni nelle quali le donne troveranno impiego, molto, molto vari, assolutamente, quindi corrispondenti esattamente a tutte le occupazioni che gli uomini avevano abbandonato, eh, andando al fronte. E, eh, che tipo, questo tipo di vita improvvisamente attiva, eh, ma attiva, insomma, per tutta, eh, diciamo, eh, per tutto l'arco sociale, eh, comporta anche, eh, degli abiti molto differenti. Eh, sicuramente degli indumenti pratici, uno stile essenziale, via via, eh, l'abbandono del corsetto, insomma, che non avviene dalla sera alla mattina, però, insomma, eh, alla fine del conflitto sarà, eh, quasi completamente abbandonato, o meglio sostituito da nuovi capi, come vedremo. E, eh, i tacchi, eh, delle scarpe, anche questi si riducono, e le gonne si accorciano, eh, al polpaccio per consentire un'andatura più spedita e più veloce, ma, eh, lo vedremo, anche il risparmio di tessuto, perché, eh, via via, eh, le industrie tessili, ad esempio, vengono riconvertite, eh, all'uso, eh, militare. E quindi alla produzione di uniformi, di coperte, ecco, di quello che serviva ai soldati al fronte. Quindi era essenziale anche, eh, utilizzare, eh, utilizzare meno stoffa. Quindi la tematica del risparmio, eh, già a partire dai primissimi anni, eh, della guerra diventa, insomma, una tematica forte. Ecco, vediamo qui, eh, dei figurini di moda del quindici. Quindi, insomma, eh, la guerra è veramente, eh, appena iniziata e vediamo già, insomma, una semplificazione e vediamo già, soprattutto, eh, gli orli che già si accorciano. Ecco, quindi la guerra è cominciata da pochi mesi, eh, però, appunto, così, questa esigenza di, eh, maggiore praticità, quindi vediamo delle vesti più scivolate e vediamo, appunto, ampie, eh, con, eh, facoltà di movimento, ecco, quindi si cominciano già, eh, a vedere i primi segni, eh, della trasformazione. Sì, ecco, naturalmente le donne che vediamo qui, eh, insomma, sono donne che, eh, ancora mantengono, però, eh, lo stile di vita di prima, vediamo il manicotto, il capellino, insomma, tutte queste cose che, eh, sicuramente, eh, così non saranno stati proprio gli accessori utilizzati dalle donne in fabbrica, no? Ecco, ecco, eh, e vediamo qui, eh, un altro, eh, così, elemento interessante, eh, della moda degli anni della guerra, l'ispirazione all'uniforme militare, eh, perché, eh, beh, insomma, la moda, eh, eh, è sempre uno specchio del momento, quindi delle cose, delle tematiche importanti, che siano culturali, sociali, politiche, ecco, insomma, la moda non è qualche cosa di avulso dalla realtà. E quindi, eh, nel momento in cui tutte le nazioni sono militarizzate, eh, anche la moda scopre, eh, l'ispirazione, eh, dall'uniforme militare. Ecco, quindi, ehm, qui, ehm, potete vedere questi, ad esempio, cappotti, che, eh, così, un po' imitano i cappotti militari, eh, oppure, eh, abiti con delle abbottonature vistose, eh, o degli alamari. Ecco che, quindi, ehm, l'ispirazione, eh, militaresca, eh, comincia a farsi vedere. Adesso andiamo, ecco, avanti, e vediamo una cartolina austriaca del, eh, 1915, eh, queste donne, eh, sono alle poste, eh, vediamo che comunque, eh, c'è ancora una, insomma, queste gonne sono, non arrivano più, eh, al pavimento, ma hanno, hanno comunque una certa, eh, ampiezza. All'inizio della guerra si diffonde una, eh, così, moda interessante che si chiama la crinolina di guerra. Quindi sono abiti che hanno comunque, diciamo, sono un po' arricciati, hanno una certa ampiezza. Sapete, la crinolina, eh, insomma, è un capo del, o meglio, è una sottostruttura degli abiti dell'otto, della metà dell'Ottocento, che davano grande, eh, ampiezza, eh, alle gonne. Ecco, agli inizi della guerra, appunto, sì, si cerca di risparmiare, ma la necessità non è ancora proprio così pressante, quindi c'è anche, eh, un po', così, questa, questa linea ancora, eh, un po' ricca. Ecco, poi qui vediamo cappellini con piume, ali, di uccello, eccetera, eccetera, ecco, quindi si cerca di mantenere, insomma, ancora un po', eh, di stile. Ecco, e quindi qui vediamo un po', così, un po' una sintesi, eh, così, dello sviluppo della moda, rispetto all'eliminazione di tagli troppo aderenti, alle maniche a sbuffo, e, eh, appunto, una maggiore rigore, mh, riduzione di ornamenti, o meglio, insomma, riduzione. Ecco, a volte gli ornamenti ci sono e magari prendono, eh, prendono, eh, ispirazioni diverse, come, eh, l'ispirazione, come dicevamo prima, dal, mh, dall'abbigliamento, dall'abbigliamento dei soldati. Ecco, e naturalmente, eh, la scelta di tessuti anche, eh, economici, resistenti, eh, magari in tinta unita, e la lana, però, eh, importantissimo, la lana sparisce quasi subito dal mercato, perché, eh, viene riservata ai soldati. Quindi, viene riservata a loro per, eh, le loro uniformi. Per le uniformi, per le coperte, i cappotti, eccetera, eccetera. Ecco, mh, vediamo anche proprio questa, le signore con aviatore, nel quindici. Adesso scorrerò un po', eh, ecco, un po' di immagini. Ecco, vediamo già, eh, la semplificazione, anche, in questo caso abbiamo un abito da sera, certo, insomma, l'abito da sera non era proprio, diciamo, la principale delle preoccupazioni, eh, in questo periodo. Però, sapete, ehm, per le donne dell'alta società, ehm, l'impegno, eh, nella grande guerra passava anche per la raccolta dei fondi, ehm, quindi, allora, una donna dell'alta società poteva anche ritenere che, eh, partecipare a un ballo per la raccolta fondi fosse anche quello, eh, un modo per, ehm, contribuire allo sforzo bellico. Ma, ehm, le donne dell'alta società comunque, ehm, eh, si impegnavano anche in diverse maniere, ehm, parleremo più avanti dell'impegno delle donne come croce rossine, che è un impegno assolutamente, eh, trasversale, ehm, oppure, eh, come, eh, madrine di guerra, eh, quindi, donne che, ad esempio, cercavano di, eh, tenere alto il morale dei soldati al fronte, ehm, con la corrispondenza, oppure agevolando la distribuzione della corrispondenza, eh, eh, dai soldati, ehm, rispetto, eh, alle loro case, eh, e così via. E, ehm, c'erano poi, ecco, un fenomeno interessante, quello dei comitati della maglia. I comitati della maglia perché, ehm, le donne, insomma, meglio, ci si accorge, eh, che al, visto che la guerra, eh, diventa, eh, lunga, eh, i soldati patiscono il freddo, nelle trincee, eh, così via, ehm, allora diventa necessario, eh, così confezionare per loro dei capi a maglia, che possono essere maglie, passamontagna, eh, guanti, calze, eh, e così via. Ecco, e, eh, appunto, eh, le riviste di moda, anche queste si evolvono, presentano cartamodelli e istruzioni proprio per questi, eh, capi che dicevamo, quindi magari, ehm, si riducono le istruzioni per, ehm, merletti, ricami, eh, insomma, queste cose che magari in questo momento non sono proprio la priorità, eh, ehm, tristemente contengono un numero progressivamente maggiore di abiti da lutto. Mentre, eh, mentre, eh, prima della guerra si compariva un figurino per abito da lutto ogni tanto, eh, e magari molto più spesso compariva invece il figurino per l'abito da sposa, invece, ehm, ehm, proprio i rapporti si, ehm, ribaltano totalmente. Eh, ecco qui, eh, vediamo, eh, altri figurini del tempo, vediamo quindi da un lato questi cappotti di impostazione vagamente militare, vediamo, mh, gli abiti da sera, appunto, più semplificati, più corti, come un po' quello che abbiamo visto prima, eh, messo su manichino, ehm, sul lutto, eh, abbiamo già detto, e quindi, e qui adesso vediamo un po' un novero di, ehm, occupazioni che ci fanno capire l'entità veramente e la varietà dell'impegno, eh, femminile. Ecco qui rappresentato proprio emblematicamente, eh, la contadina, la crocerossina e l'operaia. Mh, ecco, e vediamo, ad esempio, o, mh, insomma, l'impegno nei campi, le donne si trovano improvvisamente da sole, e, e, mh, magari, eh, affiancate da, eh, così, i familiari, o, eh, o bambini, o, eh, anziani, e quindi devono portare il loro, eh, contributo. Molto spesso il loro lavoro è quello di bestie da soma, sostanzialmente, però, ecco, quindi, eh, vedete, eh, tra realtà e propaganda, appunto, purtroppo il lavoro è duro, è molto pesante. Ecco, eh, minen für Vaterland, no? Le mine per la patria, ecco, eh, l'impegno in fabbrica non è una novità del periodo, è una novità il fatto che le donne, ehm, rispetto a prima della guerra, che erano magari impegnate nelle industrie tessili, nelle filande, eccetera, eccetera, adesso devono lavorare, eh, anche nell'industria pesante, nell'industria del munizionamento, anche, ehm, a contatto con esplosivi e, eh, sostanze velenose. Ecco, qui, eh, donne lavavetri, muratore, ecco, qui, eh, vedete sulla destra, novità importantissima, i pantaloni, ecco, i pantaloni, eh, mh, così, c'era stato, così, mh, qualche stilista temerario che aveva tentato di proporli nell'undici, ma, hm, non erano stati veramente presi sul serio, eh, durante la guerra, eh, invece, il pantalone, eh, femminile prende assolutamente piede e questa è una delle novità assolutamente rivoluzionarie. Ecco, le donne impegnate con, eh, le munizioni, nell'industria pesante, eh, le operaie, eh, ecco qui, ehm, eh, eh, faccio una parentesi, i capelli, eh, i capelli, eh, alla soglia della, della guerra, eh, erano lunghi, lunghi, molto lunghi, molto spesso arrivavano fino alla vita, eh, la sera si pettinavano con i cento colpi di spazzola prima di andare a dormire e, eh, durante il giorno si acconciavano così in modo, così molto complicato. Beh, ehm, la donna che lavora in fabbrica non si può, eh, permettere tutto ciò, innanzitutto perché una chioma lunga è anche potenzialmente pericolosa perché si può anche, eh, impigliare nei macchinari e così via. Sicuramente, hm, le donne che tornano a casa dopo la giornata trascorsa al lavoro non hanno né tempo e voglia di fare cento colpi di spazzola e, e quindi si dà anche, eh, molto rapidamente un taglio, ehm, ai capelli. Ecco, quindi, hm, questo ci aiuta a capire poi anche, eh, la moda dei capelli alla maschietta anche al termine, eh, della guerra. E comunque le donne in fabbrica dovevano, eh, insomma, per anche evitare incidenti dovevano avere il capo, eh, coperto. Quindi non, appunto, per, ehm, estetica ma proprio per sicurezza. Ecco qui, ehm, altre operaie, quindi vedete, eh, occhialoni, eh, cuffiette in testa, pantaloni, eh, ecco che quindi, no, rispetto, così, alle immagini idealizzate di, mh, anteguerra, ecco, vedete, è proprio cambiato il mondo nel frattempo. Eh, le donne trovano impiego nei trasporti, e, mh, e, eh, vedete, si creano proprio anche delle uniformi anche per le donne, eh, impegnate nelle attività. Questo vale anche per le donne impegnate nell'assistenza, negli ospedali, eccetera, eccetera. L'uniforme, eh, crea senso di appartenenza, di identità, ma, eh, anche, genera un senso di rispetto, perché è anche molto questo, eh, un tema importante, eh, perché, eh, non si era abituati a vedere, diciamo, le donne al lavoro, dovevano essere delle donne rispettate. rispettate, ecco, quindi questo è molto importante. Ecco, quindi, eh, scorriamo, eh, vedete un po' di immagini. Ecco, le portatrici carniche, naturalmente, questo è, eh, così, questo ci lega, eh, strettamente al nostro territorio, appunto, queste, mh, donne che facevano un lavoro, mh, pesantissimo di portare munizionamento, eh, al fronte, e che, eh, vedete, contemporaneamente, mentre, eh, avevano, appunto, queste gerle pesantissime, anche, eh, sferruzzavano, insomma, veramente leggendarie. Ecco, quindi, eh, l'immagine, appunto, della donna, nella grande guerra per eccellenza, la croce rossina, ecco, la croce rossina, con le sue, eh, uniformi. Questa è un'immagine di Hemingway, con, appunto, le croce rossine, beh, ricorderei, forse avrete letto, eh, addio alle armi, e quindi, tutte queste immagini vi saranno, eh, familiari. Ecco, quindi, mh, importante, le uniformi sono bianche, eh, perché, questo per praticità, tela di cotone, possono essere lavate, ecco, per ragioni, appunto, di igiene, e, e, di praticità. Ecco, vado, diciamo, appunto, un po' veloce, ecco, quindi, queste sono le immagini, eh, delle donne, proprio soccorrevoli, come angeli, eh, però, effettivamente, eh, eh, sono quelle, eh, che hanno la visione più diretta degli orrori della guerra, ecco, quindi, vedono il costo materiale, molto di più, delle donne che sono in fabbrica, o nei servizi, insomma, nel terziario, ecco, lo chiameremo oggi. Ecco qui, ecco, questa, eh, legata al nostro territorio, queste sono le sorelle Marinaz, eh, appunto, la duchessa d'Aosta, perché, appunto, anche, eh, così, le donne della, dell'aristocrazia, delle famiglie reali, erano impegnate, appunto, avevano dei ruoli importanti, eh, nella Croce Rossa, e, d'altra parte, appunto, dovevano dare, anche, eh, l'immagine simbolica, appunto, di essere vicini alla, eh, sofferenza del popolo, ecco, a tutti i livelli. Ecco qui, eh, vedete, eh, questi, divisione ospedaliera americana, ecco, quindi, qui abbiamo delle, eh, proprio uniformi, che sembrano proprio, eh, così, eh, echeggiano da vicino, eh, quelle dei, eh, dei soldati. Ecco, quindi, vedete, appunto, via via che scorriamo le immagini, proprio, eh, la semplificazione dell'abito, vedete, eh, così, che è qualche cosa di, eh, più morbido, che, eh, infagotta leggermente la figura, ecco, certamente, eh, non abbiamo più questa, eh, eh, così, così, queste figure, eh, così, esili e strizzate, eh, eh, di, eh, anteguerra, ma siamo di fronte, eh, appunto, a degli, a degli abiti comodi, a degli abiti comodi, appunto, 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 plasmati anche, eh, sull'esempio, appunto, dell'uniforme, appunto, che, come si diceva, eh, da appartenenza, eh, appunto, in certi casi, appunto, semplicemente, eh, immagini come questo, si vuole creare un senso di, eh, vicinanza alla sofferenza dei soldati sul fronte, ecco, in certi casi sono proprio, invece, le donne che, eh, eh, nelle mansioni in cui vengono cooptate, eh, adottano delle, eh, vere e proprie, eh, uniformi. Ecco, come possiamo vedere qui. Ecco, adesso, appunto, abbiamo visto le immagini dell'impegno, vorrei farvi, eh, siamo praticamente verso, eh, la fine del nostro intervento, vorrei, eh, farvi vedere, appunto, qualche immagini, eh, dell'abbigliamento, eh, dopo, eh, la guerra. Ecco, ecco, qui siamo ancora nel diciassette, quindi, insomma, siamo, eh, siamo verso la fine, valgono le considerazioni che abbiamo fatto prima, vabbè, ecco, tra i ruoli della donna, appunto, la donna, abbiamo detto, operaia, eh, crocerossina, nel terziario, eccetera, eccetera, anche la spia, pensiamo, matari, ecco, una per tutte. Eh, effettivamente, questo è l'unico ruolo, diciamo così, un po', eh, glamour. Eh, ecco, quindi, eh, la moda del primo dopoguerra, il, eh, profonda, il, la moda, eh, cambia profondamente, anche perché è ritenuto moralmente inaccettabile, eh, ostentare lusso, eccetera, quindi è proprio il modo di pensare che è cambiato. Ecco, ecco, e naturalmente, eh, vince, eh, vince la praticità. E, eh, la donna al termine della prima guerra mondiale è una donna che, eh, diciamo, ha, eh, la, diciamo, la donna di moda è la cosiddetta donna crisi a questo punto, perché i paesi sono anche effettivamente impoveriti, quindi le persone sono anche, effettivamente molto più magre e non per dieta, ecco, la donna di moda diventa proprio una donna sottile, quasi, eh, androgina, eh, appunto, in cui, eh, le curve sono, eh, appiattite, eh, così certo, appunto, non più, eh, evidenziate. Ecco, quindi la caratteristica della moda degli anni venti è proprio maschile, eh, androgina, eh, a livello di, eh, produzione, appunto, gli abiti, eh, sono, si afferma sempre di più l'abito anche fatto, eh, nei grandi magazzini, appunti, non soltanto l'abito singolo fatto, diciamo, su misura per la persona. Il taglieur, quindi il capo tra, insomma, giacca, l'abbinamento di, eh, giacca e gonna su ispirazione, eh, maschile, eh, non è, eh, appunto, una novità di questi anni, esisteva anche alla fine dell'ottocento, eh, però, eh, è il grado di praticità che, eh, insomma, totalmente, eh, cambiato. E la caratteristica visivamente più saliente è il fatto che il punto vita scende sui fianchi, quindi non c'è la necessità di, eh, comprimere più il punto vita. Ecco, quindi adesso, oh, scorriamo, appunto, eh, una serie di immagini, eh, abbiamo parlato anche, eh, del fatto che i capelli si tagliano, si afferma la garzone, eh, o la cosiddetta maschietta. La garzone è, eh, un romanzo del 1922, eh, che ha per protagonista una donna che si emancipa. Ecco, è un libro che fa scandalo, il libro di Victor Marguerite, eh, però effettivamente la garzone, eh, diventa, eh, proprio una, eh, figura di moda. Ed ecco qui. Poi l'attrice, eh, emblema del momento è, eh, Louise Brooks, eh, è uno dei tagli di moda, è proprio questo, a caschetto, con, vedete, con le virgole, è cosiddetto, con la frangetta, è, eh, con le virgole. Ecco, quindi questa è una, proprio delle mode degli anni venti. Moda degli anni venti. Eh, anche, hm, a livello di cosmesi ci sono dei passi avanti, perché, eh, prima della prima guerra, eh, la cosmesi, eh, era un po' un tabù, nel senso era riservata alle attrici, o, diciamo, alle meretrici, se vogliamo. Quindi le donne, ehm, le donne per bene, insomma, si potevano mettere la cipria, indubbiamente, eh, un po' di rossetto, ma che si vedesse poco, certo non rosso, certo non sgargiante, eh, e così via. Beh, e insomma, eh, anche dal punto di vista, eh, del make-up, eh, questo viene proprio sdoganato dalla prima guerra mondiale. E, eh, e poi, appunto, un'altra delle novità salienti degli anni venti, eh, eh, che ha, insomma, come arteci, artefice, eh, Cocco Chanel, il fatto che viene sdoganata la bronzatura. La bronzatura, per cui la donna, eh, che, quindi, che lavora, che sta a contatto con l'aria aperta, eccetera, eccetera, non è più, eh, qualche cosa da stigmatizzare, anzi, insomma, si, eh, scopre la, eh, così, la bellezza estetica anche della pelle, eh, un po' colorata, e, appunto, della donna che, eh, insomma, si impegna, eh, all'esterno, magari, insomma, anche nello sport, se vogliamo. E, eh, comunque, ecco, quindi questa è la moda del Charleston, eh, quindi questo ballo che si diffonde, eh, negli anni venti, che un po', insomma, eh, l'emblema di questi anni, vedete, questo è un abito, oramai, come dire, totalmente rettificato e dritto, non richiede, eh, sottostrutture, se non al limite, una guaina, eh, elasticizzata, quindi, ehm, è il corpo liberato, ecco. E quindi è questa la novità che porta alla prima guerra mondiale, eh, la liberazione del corpo, assolutamente. Ecco, se dovessimo, eh, proprio riassumere ai minimi termini, il concetto è questo. Ecco, vediamo queste, mh, ultime immagini, c'è, eh, sempre, mh, allora, il parasole, eh, non scompare anche questo dalla sera alla mattina, ma si usa il cosiddetto parasole giapponese, vedete quello, eh, piatto, eh, con manico corto, eh, la cupola estremamente piatta, ma, insomma, è più un vezzo, è un, insomma, un elemento di moda, eh, mh, così, è qualche cosa di, eh, molto stiloso e quindi, eh, lo si tiene, diciamo, più per bellezza, ecco, qui vediamo, eh, che per necessità. Qui siamo già intorno al, eh, 1925 e, eh, vedete come si è accorciata, eh, la linea degli abiti, ecco, quindi c'è stato proprio un, eh, un, eh, un taglio drastico, mh, ecco, mh, se pensiamo alle immagini che vi ho mostrato in apertura, quindi, eh, la linea AS, eh, era un'immagine del 1904 circa, quindi sono, eh, passati vent'anni, venti, ventun'anni, vedete, però è cambiato il mondo nel frattempo, quindi, eh, appunto, la donna che voi vedete, diciamo, è disinvolta, disinvolta, eh, ha avuto un'esperienza di responsabilità, di, eh, nella vita lavorativa, ha capito di potercela fare, eh, anche all'infuori, eh, anche al di fuori dell'ambito domestico, eh, insomma, è una donna che guarda, eh, con fiducia al suo domani. Ecco, purtroppo, eh, la storia ci insegna che il domani, eh, non è stato proprio così roseo come auspicato, anche perché, eh, comunque gli uomini, eh, rientrati dal fronte, eh, avevano la necessità di ritornare alle proprie occupazioni lavorative, e quindi un po', come dire, questo volo, eh, delle donne poi è stato prontamente, eh, tarpato, eh, dal, eh, rientro nei ranghi che, eh, eh, si è imposto loro, oh, al, eh, fine della guerra. Eh, però, eh, l'orologio della storia non poteva tornare totalmente all'indietro, quindi, diciamo, questa nuova consapevolezza, questa, eh, eh, delle proprie capacità era un punto di svolta rispetto a cui non si poteva più tornare indietro. Ecco. Ecco, quindi con questa immagine, eh, noi, eh, insomma, concludiamo e quindi sono, eh, a disposizione per, eh, domande, eh, eventuali su questa conversazione. Grazie, Raffaella. Anche oggi abbiamo uno spaccato, eh, interessante, no? Sul, sul ruolo della donna, mi sembra che succedono molte cose, ci sono molti cambiamenti. Ehm, vediamo se arrivano le domande. Ehm, vediamo se arrivano le domande. Chiedono, eh, notizie sull'abbigliamento infantile. Beh, eh, l'abbigliamento, l'abbigliamento infantile non, sì, diciamo che, eh, non vede delle, proprio, trasformazioni, eh, tanto evidenti. Certo, come neanche, eh, come neanche l'abbigliamento maschile, ecco, perché noi ci siamo concentrati ovviamente sull'abbigliamento, sull'abbigliamento femminile, eh, che è quello che vede, appunto, la rivoluzione. Ma, eh, mentre anche gli uomini, insomma, gran parte di loro passano la grande guerra vestiti in uniforme e poi, eh, smessi i panni militari, eh, ritornano più o meno agli abiti di prima. Ehm, diciamo anche in, eh, in ambito infantile non ci sono, eh, delle trasformazioni, eh, tanto evidenti. Ecco, certo, eh, insomma, insomma, i bambini in qualche modo sono sempre anche quelli, diciamo, un po' sacrificati, eh, ad ogni modo. Soprattutto poi, eh, in un'epoca, eh, come quella della grande guerra, eh, che è un momento drammatico, eh, per l'infanzia. Eh, perché, eh, molti restano, perdono i padri, eh, hanno le madri impegnate fuori casa, ecco, quindi, eh, diciamo, non è proprio un momento molto felice per la situazione dell'infanzia. Eh, certo che se pensiamo magari all'iconografia, eh, infantile, eh, anteguerra, eh, con, eh, gli abiti, gli abitini alla marinaretta, eh, appunto, con, eh, così queste, eh, questi abiti, eh, così anche proprio ricercati, ispirati al, eh, ispirati ai marinai, eccetera, insomma, marinai, insomma, marinai di lusso, ecco. E, eh, durante, eh, durante la guerra, questa, anche, eh, esigenza di, eh, risparmio portata all'osso, eh, si ripercuote, eh, anche sul, sull'abbigliamento dei bambini, insomma, quindi, eh, si utilizza un po' quello che c'è, eh, quindi, si ricicla tantissimo, eh, insomma, soprattutto con, eh, il periodo della grande guerra è, insomma, un momento in cui il riciclo del tessuto, diciamo, il riadattamento degli abiti, eh, qualche cosa che viene portato, un esercizio che viene portato proprio, eh, all'estremo. Abbiamo accennato anche per quanto riguarda le donne, si è detto, sì, eh, appunto, le bestie si accorciano per esigenza di risparmio, ma anche, eh, si rivoltano i cappotti, eh, insomma, diciamo che durante, eh, tutti i periodi di, di forte crisi economica, eh, si tende, diciamo, a riutilizzare, riadattare quello che c'è in casa. Nel caso dei bambini, insomma, questo poi viene portato anche, eh, proprio all'estremo, eh, già, diciamo, come dire, mh, fisiologicamente al bambino più piccolo, eh, si adatta a quello del bambino più grande, eh, mh, così una volta che è cresciuto, eh, però effettivamente, appunto, dobbiamo pensare che il, il, il periodo della grande guerra è proprio, eh, crea delle enormi, proprio, eh, fasce di povertà, ecco, quindi, mh, non è proprio, appunto, un bel momento questo, e, e, mh, l'abbigliamento anche dei bambini, eh, insomma, abbastanza sacrificato. Ecco, se ci sono altre domande? Ecco, se ci sono altre domande? Vi leggo una citazione, vi leggo una, una citazione del 15, una rivista femminile per il Corriere delle Maestre. Ecco che quindi ci lega un po', lega un po' crocerossine, bambini, eccetera, eccetera. Allora, dice, quest'anno che per l'Italia rappresenta un periodo memorabile, da a noi trepidazioni e doveri. Quest'anno dunque non feste, non partite di piacere e perciò non abbigliamenti di lusso, ricercatezze di eleganza, un abito grigio di Serge, dalla gonna corta campana e dalla giacchetta bolero, con falde arricciate, un abitino semplice a pieghe in tela bianca. Ecco quanto basta per formare un corredo completo che serve per viaggio, per passeggiate e visita ai poveri. Nidi di bimbi, ricreatori, sale di ospedale, stazioni ferroviarie reclamano quest'anno la costante opera delle signorine. Ritengo però perciò consigliabile l'abito di tela bianca che si lava e stira tanto facilmente ed ha quell'impressione di freschezza che riesce tanto di sollievo ai malati e attira la simpatia dei fanciulli. Ecco quindi questo un po' insomma per dire qual era insomma qual era lo spirito e anche appunto ci fa capire un po' insomma qual era il qual era il clima del periodo effettivamente diciamo al di là anche di quello che poi abbiamo visto con le immagini di fabbrica e così via. Ecco quindi non so di che cosa si preoccupavano le maestre in quel periodo. Grazie. Ecco un'altra domanda. Le stiliste dell'epoca erano donne? Allora alle soglie della guerra erano soprattutto uomini. Con invece con la grande guerra effettivamente anche insomma le donne prendono un posto nella creazione di moda per cui insomma una per tutte Coco Chanel che è insomma proprio un po' una figura chiave così negli anni appunto dalla prima guerra mondiale però insomma poi lei sarà attiva anche per molti decenni successivi e scavallerà anche la seconda. Effettivamente Coco Chanel è un po' un diciamo un emblema della donna liberata appunto della donna della donna moderna che prende in mano il suo destino e che crea una moda per le donne una moda comoda. Lei ad esempio scopre così l'impiego nella moda del jersey di lana il jersey che è appunto quindi una maglina quindi un tessuto comodo cedevole quindi che agevola i movimenti e che fino diciamo prima della prima guerra mondiale quel tessuto lì veniva utilizzato per le cameriere insomma quindi diciamo per dei ceti insomma un po' più modesti e invece lei scopre la possibilità cioè insomma scopre lei declina anche così questi materiali più umili nella moda quindi e soprattutto quella che lei crea e insomma una moda pratica sobria elegante cioè lei è veramente come dire la donna al passo coi tempi e che detta le tendenze. Come dicevo già prima anche lo sdoganamento della bronzatura è qualche cosa che la vede protagonista. Lei tra l'altro anche impone nella moda quella che è la sua stessa immagine di una donna magra androgina con i capelli corti direi che sì che è lei proprio la protagonista femminile ed effettivamente a partire dagli anni venti le donne poi avranno un ruolo molto più attivo nella moda non soltanto come soggetto passivo che riceve la moda così che un uomo ha disegnato per lei che quindi ovviamente è sempre un'immagine insomma idealizzata, astratta che poi prescinde dalle comodità o scomodità del fatto di portare determinate fogge no? Che anzi insomma per qualche cosa che per secoli è stato totalmente indifferente il fatto che una foggia fosse scomoda da portare. Insomma anzi l'elemento estetico era quello più importante quindi abbiamo detto poi insomma poco importava lo stilista insomma se la donna per portare una determinata mise si doveva insomma compromettere la propria salute di fatto no? Perché abbiamo detto a livello ortopedico così le mise ma non dico soltanto dei decenni precedenti la prima guerra mondiale ma dei secoli precedenti avevano tutti questi tratti comuni di questa compressione proprio soprattutto della gabbia toracica della vita insomma anzi insomma poi a livello di letteratura clinica medica si riportano poi anche delle cose veramente agghiaccianti e questo soprattutto per la metà dell'ottocento ad esempio tipo fegato trapassato da costole o insomma cose di questo tipo veramente sì diciamo quando parliamo di qualche cosa che faceva male alla salute non intendiamo dire solo che faceva magari qualche dolorino ecco no insomma provocava anche proprio delle deformità a volte no anche insomma nella crescita del corpo che anche perché il corpo veniva educato fin dall'infanzia a portare il corsetto via via più gradualmente via via più costrittivo mano a mano che la ragazza cresceva ecco quindi sì è stato effettivamente molto importante che fossero delle donne a cominciare a creare moda per le donne sì quindi era proprio l'ottica è totalmente differente ho una domanda io quando viene introdotto il pantalone allora con la fine della guerra si sposta la connotazione che ha quel tipo di elemento e si sposta come cioè entra a tutto regime in un'idea di moda o torna indietro oppure diventa una connotazione per un certo tipo di donna un certo tipo di rappresentazione della donna sì il percorso il percorso del pantalone non è lineare ed effettivamente diciamo che insomma il pantalone viene totalmente sdoganato nell'abbigliamento femminile dopo la seconda guerra mondiale e appunto in un certo senso si fa questa fuga in avanti durante la guerra e poi però insomma si torna indietro quindi nella moda degli anni venti il pantalone c'è ma è proprio come dire per le donne così più stravaganti che o diciamo così con molto stile si usa nello sport però non è qualche cosa che veramente attecchisce quindi i tempi non erano veramente non erano veramente maturi diciamo un po come un dico da questo punto di vista la moda è come un elastico la si tira in avanti però poi mollata torna indietro no l'elastico quindi sì durante la guerra c'è questa il pantalone viene adottato in massa in fabbrica no soprattutto perché già quando vediamo le donne nei campi vediamo le vediamo quasi sempre comunque con delle gonne lunghe invece in in fabbrica insomma assolutamente è necessarissimo proteggersi ma proprio non solo per libertà dei movimenti ma anche proprio per le ragioni che di dover maneggiare abbiamo detto veleni insomma sostanze altamente tossiche che erano quelle che si usavano nell'industria del munizionamento appunto al termine della guerra però sì effettivamente il pantalone va a declinare resta nello sport ma nello sport se per questo si usava già nell'ottocento nell'ottocento c'era un diciamo un unico uso consentito del pantalone che era per la bicicletta ecco la bicicletta che insomma dalla seconda metà dell'ottocento diventa insomma qualche cosa c'è insomma questo interesse per lo sport appunto la bici allora sui figurini di moda almeno poi non so si vedono le donne a parigi al guad de bologna così pedalare insomma con così con dei calzoni così come anche sempre nello sport nei costumi da bagno ecco se pensate costumi da bagno belle poc con delle tunichette con sotto dei calzoni arricciati ecco un po una mise appunto legata allo sport via via però insomma che si va fino al si va la seconda guerra mondiale dopo la seconda guerra mondiale veramente appunto soprattutto direi negli anni cinquanta e sessanta però i pantaloni diventano qualche cosa di un capo normale per le donne prima assolutamente no e mi diverte sempre diciamo così un episodio che mi ha raccontato lo stilista roberto capucci eh che ehm questo si riferisce agli anni cinquanta ehm ha mandato a fare la prova di un abito a casa di una cliente di una principessa ha mandato una sua dipendente che era comunque anche questa insomma una nobile donna molto titolata che si è presentata dalla principessa con i pantaloni ecco la principessa si è rifiutata di fare la prova e ha rimandato a casa diciamo così questa svergognata che aveva osato presentarsi a lei con i pantaloni e insomma gli ha intimato di eh ritornare con la gonna ecco quindi stiamo parlando degli anni cinquanta ecco e quindi diciamo non in ambiti particolarmente mh certo sicuramente in ambiti particolarmente eh tradizionalisti però certo non eh non stiamo parlando di gente non so con poca cultura ecco insomma eh molto legata alle tradizioni evidentemente quindi per il pantalone in grande stile dobbiamo aspettare veramente gli anni sessanta eh del novecento e mh e avevo visto c'era un'altra domanda mi pare sull'età sulle erano presenti delle differenze tra abbigliamento delle giovani donne e le donne mature? Eh sì sì questo questo sì sicuramente perché eh diciamo che questo impegno massiccio eh delle donne e soprattutto un impegno anche insomma delle donne più giovani no? L'abbigliamento eh delle donne più anziane sicuramente tendeva a essere più ehm legato alla tradizione anche se ehm diciamo qualche cosa che ha interessato tutte il fatto che tutte le donne giovani meno giovani indifferente che sono state coinvolte ehm in modo attivo nelle occupazioni più pesanti eh della fabbrica o dei campi eccetera eccetera il eh il corsetto quello costrittivo lo hanno proprio gradualmente mh abbandonato ecco quando parliamo di corsetto tra l'altro non dobbiamo pensare qualche cosa che era legato soltanto ehm alle classi superiori non era eh un bene di lusso ehm io ho analizzato anche diversi ehm abiti contadini ehm o tradizionali che ehm al loro interno avevano le stecche comunque che magari non erano di balena ma insomma erano di legno ecco che ehm un po' ehm anche ehm un po' tutti i ceti sociali cercavano di eh seguire le mode che venivano che venivano dall'alto perché un po' diciamo le dinamiche ehm di diffusione della moda mh direi anche qui fino alla seconda guerra mondiale andavano dall'alto in basso quindi per imitazione ehm il fatto non so della moda eh che copia quello che si vede dalla strada e qualche cosa di decenni decisamente recenti prima insomma le dinamiche di diffusione della moda eh appunto erano così estremamente mh eh verticali poi insomma a seconda delle anche delle possibilità economiche eh ciascuno se l'adattava meglio che poteva però insomma si cercava ecco che quindi mh anche appunto per difendersi eh dai raggi solari magari non ci si poteva permettere il parasole e il il cappello ad ampi e tese perché si lavorava nei campi ma allora si cercava di surrogare con con fazzoletti insomma in altri in altri modi ecco che quindi magari non si poteva comprare il corsetto eh che sicuramente era un indumento che aveva un costo e un pregio e allora si utilizzavano degli altri accorgimenti però poi la finalità era la stessa quindi quello di dare al corpo una linea eh affusolata e sicuramente eh innaturale e comunque sì diciamo il fatto che il allora tradizionalmente magari le donne più in età potevano avere una maggiore resistenza eh rispetto all'innovazione ehm rispetto alle donne che eh più giovani che sicuramente guardavano anche con grande insomma entusiasmo a questa ehm esperienza di libertà così totalmente nuova eh nel lavoro così come nell'abbigliamento. bene ehm non ci sono altre domande io direi che siamo nel momento della consueta chiusura eh eh grazie a tutti a dottoressa Sgubin agli insegnanti agli studenti e le studentesse la società Antract che ha curato il supporto tecnico questa conferenza è stata registrata e sarà pubblicata sul canale di YouTube di Teatro Club Udine per essere visionata nuovamente dai partecipanti di oggi e da quelle classi che non hanno potuto collegarsi in diretta. Prossimo appuntamento mercoledì 10 febbraio con l'ultima conferenza del progetto La vita al tempo del covid relatore Massimo Recalcati. Buona vita a tutti in questo tempo di covid. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.